Erano decisamente troppo frequenti viaggi a bordo di una piccola utilitaria di una coppia di aretini di 47-48 anni, entrambi con piccoli precedenti alle spalle, per non destare sospetti nella squadra mobile della questura di Arezzo. Sospetti che ben presto hanno trovato conferma, visto che i due sono stati sorpresi a trasportare droga. I loro spostamenti, infatti, da tempo erano monitorati, così lunedì sera, in seguito all'ennesimo viaggio in direzione sud, sono stati fermati, con la presenza anche della polizia stradale di Arezzo, per un controllo al rientro in città. A nulla è valso il tentativo del conducente di evitare i controlli dislocati su tutto il percorso, uscendo a Val di Chiana. Ma non solo, prima che l'auto si fermasse, gli agenti hanno notato che i due stavano cercando di nascondere qualcosa. Dalla perquisizione della vettura sono venuti fuori due involucri sotto vuoto con dentro 220 grammi di cocaina purissima, occultata sotto il sedile del passeggero per la coppia e quindi scattato l'arresto.